Vogliamo ringraziare Rocco per questo bellissimo regalo che ci ha fatto e penso anche a nome di tutti voi. Sì, lui è qui perché praticamente ieri sera è stato proiettato il documentario di Stefano Consiglio sull'omotessualità e le musiche erano più lì. Ci siamo incontrati con lui, è venuto a trovare dopo vari anni al mio bed and breakfast, è ritornato qui, è un chiacchierato, si sono ripresi i contatti. Il mio sogno è stato sempre quello di risentire Rocco qui, per me Rocco è la sua musica e non riesco nemmeno a... Eri piccolo? Sì, è piccolo. E quindi durante questo incontro noi stavamo progettando questa manifestazione, avevamo fatto idee e lui ci disse ah ci sta Stefano che ha fatto questa cosa con le musiche e da lì è nato tutto e poi lui ha detto vabbè, magari il giorno dopo che posso regalare un concetto. E poi eccolo. Grazie. Buon appetito. Un attimo, volevo dirvi a proposito del buffet, uno non è lussuoso, è una cosa diciamo preparata da noi, la seconda cosa che volevo dirvi è che siamo in tre praticamente, distribuite sui vari punti, quindi abbiate un attimo di pazienza. Noi vi chiediamo un piccolo contributo che ci aiuta a sostenere le spese di tutta questa organizzazione. Grazie.